e buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti sono un attimino in check perché ho cambiato microfono e non capisco se vi sto tipo stordendo con un volume folle oppure se va tutto bene quindi facciamo così iniziamo con un feedback ditemi un attimino com'è la situazione tutto ok tutto ok fantastico ci ho messo qualcosa come 20 minuti a configurarlo ho messo tutti i filtri sto cercando un attimino di dare un po di decenza in più ecco la qualità audio perché effettivamente come dire noi è da un po che ci vediamo in video io è da un po che provo a farli al meglio possibile ma poi mi ascolto in cuffia e sembra che sia tipo in una chiesa ogni tanto quindi facciamo che investiamo questo cipino sulla qualità audio ed ora in poi proviamo a fare qualcosa di più decente sono sordo si sente bene ma in scatolato non lo so beh facciamo che un attimino poi proviamo a fare un po di tweak con i filtri ho messo un attimino di filtri leggermente robotico ma solo se ci faccio attenzione adesso sei in una chiesa vuota voce da donna addirittura va bene ok possiamo andare avanti e magari poi la prossima volta mi riascolto e faccio un check mio voce quasi metallica voce da robocop un po sono raffreddato e quindi un po è colpa mia però aspettate allora potrei provare a cambiare un attimino i filtri voce da shiba inu me ne vado addio ciao è stato bello provo a tirare via qualche filtro ma poi ho paura di fare cagate quindi ho i bassi bustati facciamo che non sto a combinare niente allora adesso per oggi vi pupate questa voce robotica o quello che ho da safe labrador e cominciamo a tornare sul pezzo perché l'ultima volta non ci siamo visti live causa mitico calcetto e quindi che non ha funzionato tra l'altro perché non c'è stato l'all time high e quindi adesso dobbiamo un attimino recuperare dobbiamo fare due chiacchiere scambiarci magari qualche opinione ho conosciuto un sacco di voi a roma è stata una figata pazzesca tra l'altro a proposito di roma ho portato a casa due ricordi soprattutto uno è questo che mi fa molto ridere non so se lo vedete guardate è la coin market cup bellissima un saluto a pedro e agli amici del criptolario che mi hanno regalato questa cosa che è scherzoso perché ogni tanto sapete che gli bravi shit coiner di solito chi va a caccia della appunto della nuova shit coin fa un po fatica no a scrivere in italiano allora scrive sempre ma è stata listata su coin market cup e allora è nato questo meme no e a proposito di meme questo è il secondo ricordo che mi porto a casa che è il premio una premiazione da miglior crypto influencer addirittura mi sento quasi figo e soprattutto era bella la sobrietà con cui l'ho ritirato un bellissimo to the moon che probabilmente passerà la storia alla carlos matos insomma però giriamo pagina e adesso parliamo di cose un po più serie perché abbiamo bitcoin da una parte che ci sta facendo penare non mi sta piacendo molto bitcoin vi dico la verità sposto il microfono perché altrimenti mi esce dal range a proposito di uscire dal range ecco bitcoin ha fatto proprio quello insomma era qui intorno ai suoi 59 mila dintorni media persi ha fatto un altro piccolo lower low la domanda non sembra particolarmente carica insomma c'è la possibilità di andare a stornare un attimino più in basso questo se lo ricolleghiamo anche alla nostra scorsa analisi settimanale è vero la settimana è ancora metà c'è ancora da vedere come ci come la concluderemo come ci comporteremo adesso con la prima reazione della domanda che spero arrivi perché per adesso punto il problema è proprio quello non c'è reazione da parte della domanda abbiamo avuto questo bel dampone poi un follow up a direzionale e questo fa capire che comunque in quest'area purtroppo non si sta presentando domani ok quindi abbiamo perso il l'oltaimai il vecchio l'oltaimai stiamo perdendo anche quello c'è un po di debolezza questo non vuol dire essere bearish chiaramente non reintendiamoci è impossibile essere bearish adesso però qualche segno di debolezza c'è la struttura è un attimino fragile un attimino inclinata dobbiamo capire adesso dove andremo a fare il low quindi se c'è ancora tempo è magari arriva una botta di domanda ci riporta qua sopra in questa settimana altrimenti magari andiamo avanti a stornare ancora un po fatto sta che i supporti sono 152 mila e dintorni 248 mila dintorni che vedete è la zona a massimi volumi al momento come dire in 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 vista dopo quella in cui ci troviamo ora punto che è un attimino dolente perché se la perdiamo ripeto potrebbe essere un potrebbero essere volumi in distribuzione cosa che ci piacerebbe fino a un certo punto ai grafici ci ritorniamo verso la fine perché adesso vorrei invece chiacchierare con voi di alcune cose alcune notizie alcuni aggiornamenti e soprattutto ascoltare quello che avete da chiedere in realtà io avevo 500 mila tabs ma mi sono reso conto di averle messe tutte pensate come siamo messi sulla finestra sbagliata quindi poi le riaprirò in ogni caso oggi droppiamo anche tre codici promo di prime xbt da 0.003 btc l'uno qualcuno mi ha chiesto ma non riesco a inserirli come si fa come non si fa allora per fare un inizio fair per tutti vi faccio vedere subito come li si inserisce se voi andate su prime xbt nel vostro account quindi lo potete creare in 30 secondi anzi vi dirò di più i sci visto che lo so che me lo state chiedendo fermatevi ve lo do il mio referral link frenate l'entusiasmo vi prego ve lo condivido subito eccolo qua tac la creazione di un account ci vogliono pochissimi secondi e non c'è kyc quindi veramente top per inserire il promo code voi dovete andare nella finestra di trading quindi ad esempio margin btc e account qua vedete c'è la sezione promo code incollate qui o meglio scrivete a mano perché non ve lo lascio incollare quelli che vi dropperò tra poco e avrete i vostri 0.003 bitcoin caricati sull'account con cui potete fare quello che volete incluse posizioni in leva 100 per poi gli eventuali profitti li potrete prelevare e il bonus no perché è un bonus ripeto per la piattaforma stessa quindi tenetevi pronti perché tra poco a metà video e verso la fine ce li droppiamo proprio tutti adesso dunque io faccio una cosa quasi quasi visto che ho completamente toppato finestra io provo a fare un change di questo tipo vediamo se riusciamo a fare dei danni no ce l'ho fatta allora notizie di oggi prima notizia stripe che è il provider di pagamenti uno dei provider di pagamenti più utilizzati soprattutto per i pagamenti con carta un tempo accettava anche le cripto poi le ha tolte nel 2018 e adesso dice può darsi che le reinserirò io credo che quel può darsi se lo può anche rimangiare perché sicuramente le inserirà ormai stiamo andando un po tutti verso questa direzione di un utilizzo delle cripto sempre più su larga scala anche come metodo di pagamento ci sono le soluzioni di scalabilità ci sono i layer 2 c'è l'infrastruttura e sta arrivando un po alla volta anche la regolamentazione quindi ci sarà sicuramente e ve lo volevo solo dire andiamo a cose un po più corpose sostanziose una dap su terra che si chiama kujira kujira al momento ha due implementazioni una che si chiama orca e una beluga quella più interessante è orca orca è una dap appunto su terra che ci permette di fare da liquidatori su anchor molto interessante come cosa aspettate che vado in mainnet per farvi vedere i dati corretti ci avevo smanettato un po in testnet interessante come opportunità perché come funziona ancora ancora una piattaforma di lending borrowing dove si mettono biluna e biet per il momento e si può borroguare ust a un certo long to value no quindi il massimo è 60 per cento significa che io posso depositare 1000 prendere in prestito 600 al massimo se vado a superare quell'on to value scatta la liquidazione ovvero arriva qualcuno e mi fa lo scambio forzato perché io devo restituire il mio prestito forzatamente con un malus no che è il tasso di liquidazione quindi a tutti gli effetti o perderò il mio collaterale e avrò rimarrò con i miei ust perderò il mio collaterale con ovviamente un po di anticipo un margine di anticipo e quindi quel margine di anticipo è una sorta di commissione che pago al liquidatore dall'altra parte c'è il liquidatore che va a inserire il suo si chiama bid la sua offerta su un order book di fatto questo order book non è altro che chi offre di meno chi offre di meno viene fillato prima quindi se io dico bene io mi pongo come liquidatore allo 0 per cento di premium sarò il primo a essere fillato poi ci sarà chi offre lo 0 e 5 l'1 1 e 5 2 e così via un order book a tutti gli effetti immaginatevelo proprio come quando andate a comprare o a vendere su binance o su un exchange e andate a comprare al miglior offerente poi il prezzo sale di volta in volta con la liquidazione funziona esattamente allo stesso modo su anchor con cui gira voi potete mettervi dentro questo order book quindi potete dire bene io vado a biddare sul 4 per cento supponiamo perché così sono tra i primi vi fa vedere anche quanta offerta c'è no per le varie fasce di premium io vado a biddare al 4 per cento così se dampa un po biluna perché qua stiamo parlando di biluna vado a fare da liquidatore cosa cosa ottengo io ottengo dei biluna al 4 per cento di sconto di fatto è assolutamente un qualcosa di conveniente qua sotto ci fa anche capire vedete c'è executions ovvero il numero di volte attenzione in cui una di queste fasce di premium è stata completamente svuotata il che ci fa capire che il l'uno il due e il 3 per cento vengono svuotate abbastanza in fretta ed è successo 20 volte più o meno per tutte e tre le altre un po meno perché chiaramente deve dampare di più biluna e devono esserci dei borrower un po più di gen come si suol dire ovvero che sparano su il loan to value quindi fate sempre calmi con l'on to value perché non volete finire dalla parte dei liquidati dalla parte dei liquidatori invece why not perché comunque è un come dire sono free biluna come si suol dire se succedono chiaramente tutte le condizioni come funziona funziona che ci si collega si collega il proprio wallet terra station quindi si va a scegliere il mercato in questo caso ho scelto biluna si va a depositare usp attenzione perché colui che viene liquidato riceve usp e noi gli rubiamo gli rubiamo no poverino non è che glielo rubiamo le regole sono quelle noi otteniamo il suo collaterale biluna se viene liquidato quindi io vado a mettere usp in una quantità che decido io supponiamo mille pido per mille scelgo il premium vedete in base qui posso scegliere col più e il meno oppure cliccando direttamente sulla fascia nell'order book mi vado a piazzare lì una volta che piazzo il mio bid ci vogliono 10 minuti perché si attivi per una questione semplicemente di evitare lo spam e una volta attivo tac siamo sull'order book quindi se va ad ampare biluna e qualcuno viene liquidato e vengono fillate tutte le altre bid sopra la mia arriva la mia tac incasso i biluna al sconto che ho deciso ovviamente se io vado a mettere uno sconto fa un premium del 30 per cento non verrò mai fillato perché comunque ci saranno sempre dei liquidator che vanno a biddare un po meno quindi bisogna come sempre ragionare una volta che vengo fillato quindi sono insomma ce l'ho fatta o qualcuno è stato liquidato io sono la controparte avrò qua vedete available for withdrawal qualche biluna pari alla quantità liquidata ok con un massimo che è il mio bid totale una volta che ce l'ho qui posso fare withdraw c'è una commissione da pagare a uscira che se non ricordo male è abbastanza alta è qualcosa come il 5 o il 10 per cento e posso ridurla se anziché mettere anziché pagarla in biluna cioè ci sono due modalità io vado a riscuotere i miei biluna e posso lasciare un po di biluna lì oppure i cuji che sono il loro token che al momento penso abbia solo quest'utilità e pago metà della fee quindi anziché il 5 o il 10 sarà il 2 e mezzo il 5 non ricordo in verità però al di là di tutto è comunque un meccanismo interessante oltre che con biluna si può fare con beth e vedete che anche qua c'è il nostro the book funziona esattamente allo stesso modo come dire conoscetela esiste si può implementare nelle proprie strategie qua c'è lo storico poi procediamo con un'altra dap questa volta in in avalanche su avalanche è un money market che si chiama bleed un money market con una particolarità che ci paga abbastanza però c'è un vesting quindi non è che quello che paga qui lo posso andare a recuperare subito se andate a vedere dovrebbe essere sulla eccolo qua manage vediamo se riusciamo anche a connettere il wallet tac benissimo allora come funziona funziona che c'è un vesting di tre mesi in sostanza a meno che io non voglia pagare le penalty fee quindi l'uscita anticipata che equivale al 50 per cento di penalità quindi due possibilità ripeto andare l'end e borrow sono funzionano normalmente ok quindi io deposito collaterale ottengo il mio ipy più l'apr in blu e inoltre se vado a borroware pago chiaramente l'apy che vedo qui e ottengo l'apr in blu che però devo mettere investing pena la riduzione del 50 per cento quindi tenete in considerazione queste cose quando andate a utilizzare la piattaforma mentre però investing attenzione blu vi va anche a guadagnare fi quindi va al momento a un apr abbastanza alto 129 per cento perché si va a intascarsi le fi in sostanza degli di coloro che escono in fretta ok quel 50 per cento viene distribuito agli staker e visto che comunque c'è liquidità e tutto quanto ve l'ho soltanto voluta condividere personalmente non la sto usando ma ve la condivido solo a titolo informativo perché ci sta comunque aggiornarsi su tutte queste cose poi allora vivi andiamo parentesi di gen qua quindi parentesi cipino e simili vi volevo far vedere questa che è rom dao che è una uno dei nuovi fork di olympus dao su avalanche se non erro amo click to switch avalanche e io ci sono ok come funziona funziona esattamente come olympus dao come wonderland come tutti quei simili che abbiamo visto ma con una componente di gamification di come dire è carino ecco la l'idea che c'è dietro perché tutto a tema antica roma ci sono le varie casate che si dividono la governance si combattono ci sarà una mappa con delle missioni da portare a termine premiazioni del gladiatore del mese robe del genere che insomma sono stupidate però coinvolgono no e inoltre ci sono dei legami abbastanza stretti con olympus dao nel senso che detengono i loro bond detengono la loro liquidità e tutto quanto quindi con i dovuti crismi ovvero si parla di gambling perché questa roba qua è gambling puro il cipino io ho detto ce lo lancio sopra io ve lo condivido così giusto a titolo informativo mi raccomando vi dico sempre don't try this at home e questi non sono consigli finanziari ma sono conigli finanziari mi raccomando e adesso non è ancora attivo tra l'altro quindi è interessante anche per questa ragione e non c'è ancora il token rom ma c'è il token a rom che adesso se ve lo trovo ve lo faccio vedere non lo vediamo ancora è su trader jo non ricordo male vediamo a rom l'altra volta giuro lo avevo trovato mentre devo importarlo in qualche maniera ma era era su un altro wallet vabbè comunque eccolo era esattamente questo non lo vedrete perché non ho lì ma c'era il link che forse vi avevo anche con male vabbè sta di fatto che mi sembra una delle versioni più carine lo so ce ne sono a migliaia se non a milioni ormai di questi fork di olympus dao però un cipino che arriva direttamente da wonderland tra l'altro che ormai è da quasi da un mese e mezzo che ci sono dentro e insomma ho goduto abbastanza io cipino iniziale lo vado a cipinare qua su rom e il gambling diventa gambling al quadrato no scherzi a parte è sempre comunque quel capitale allocato al gambling quindi assolutamente controllato con cognizione di causa non andate a fare delle operazioni esagerate perché veramente si deve trattare di play money e di qua quasi che è ciò che sei disposto a perdere per davvero altrimenti sono sono disastri poi ultime cose torniamo su qualcosa diciamo di un po più fondamentalmente solido stader labs da ieri se non erro ha tolto tutti i limiti per il community farming andiamo a vedere andiamo a vedere la un cep quindi in sostanza adesso è possibile farmare il token sd entrando nei vari pool di staking quindi in sostanza con i propri luna si va a mettere in staking tramite stader labs che solitamente quello che fa è proprio fare da tramite tra noi e i validatori andando a ottimizzare per noi il rendimento ne abbiamo parlato l'ultima volta e durante il community farming non si ricevono le ricompensi in luna come sarebbe normale nello staking ma le si riceve nel token sd quindi se vi interessa farmarlo questa è l'occasione fino a esaurimento scorte come si suol dire quindi quando vengono farmati tutti non ce n'è più per nessuno e lo trovo interessante sinceramente ma in generale quando si può arraffare qualche token di nuovi progetti su terra che è una chain di cui su cui sono abbastanza bullish l'avrete notato quando si può arraffare a gratis come si suol dire quindi farmando qualcuno dei token inerenti alla chain terra io ne approfitto diciamo me li tengo lì da parte come moon bag tanto a costo si rinuncia sia un opportunity cost c'è dello staking ma chiaramente non è che ci metto tutti i miei luna però diciamo è un altro modo di vedere il cipino ecco comunque ve lo volevo condividere non c'è più l'hard cap che c'era invece l'ultima live durante l'ultima live che abbiamo fatto poi cos'altro abbiamo da dire tocamac eccolo un altro dei progetti che sto seguendo con grande interesse a cui non sono ancora esposto però la mia esposizione non è cambiata e il mio portafoglio è sempre quello l'unico cambio appunto è stato che del 0,5 per cento se vi ricordate l'ultimo video dei miei investimenti avevo allocato lo 0,5 per cento a wonderland e adesso è cresciuto abbastanza fortunatamente perché è andato bene wonderland sta andando bene una parte parte che è faccio il ribilanciamento tra poco quindi vado cioè non è che rimane tutto lì ma una parte l'ho dedicata anche a romdau quella è l'unica variazione dei miei cipini da gambling il resto è esattamente identico tocamac me lo sto seguendo con interesse ve ne ho parlato un bel po di volte tra l'altro ve l'ho accennato anche a roma nello speech a roma e hanno reclutato 0x maki che è uno dei personaggi più come dire noti nel mondo defy è uno dei fondatori di sushi swap per capirci e diventerà lo shift strategy advisor quindi si occuperà penso di implementare smart contract e poi vanno a direzionare la liquidità perché la strategia in tocamac si basa esattamente su poi questo era solo un ping ah no quello lì ve l'ho chiuso ma in realtà ve lo volevo far vedere composable finance è arrivato il primo bridge cioè sta arrivando in realtà il primo bridge tra il mondo cosmos e il mondo kusama grazie a composable finance appunto che è costruita sulla parachain picasso di kusama e questo è importante perché insomma il mondo ibc il mondo cosmos sta iniziando a parlare un po con tutti e non lo vedo male come cosa anche cosmos è un ecosistema ripeto da tenere sotto controllo è un attimino più arretrato rispetto ad altri quello è palese però va assolutamente tenuto sotto controllo perché qualche piccola gemma li potrebbe saltare fuori ultimissima cosa tu ancora protocoll guardate qua ci vuole veramente l'acqua ghiacciata è fondamentale l'altro ho messo ho messo anche il noise gate sul microfono così quando non parlo dovreste sentire silenzio di tomba assoluto e non il fruscio di sottofondo comunque ancora protocoll sta lavorando per finalizzare l'aggiunta di bisol e biatom ai suoi collaterali figata figata pazzesca tra l'altro a proposito di ancor non so se avete visto il grafico che vi avevo condiviso su telegram un po di tempo fa visto che adesso ne stiamo parlando dov'è 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 anche messo il link però ve lo linko esattamente qua in sostanza vi volevo far vedere come yield reserve di ancor è sanissimo quindi ogni tanto arrivano le domande ma ancor con tutti questi prodotti c'è abracadabra una roba e l'altra non è che si svuota la riserva non paga più l'apy io vi dico guardate sempre questo grafico la yield reserve che ha quel dato che vedete anche sulla dashboard di ancor protocol ve la fa vedere esattamente qua vedete yield reserve 73 millions quindi se la yield reserve c'è vuol dire che l'apy viene pagato se la yield reserve è crescente vuol dire che è sanissimo l'apy quindi possiamo stare assolutamente tranquilli quindi che per il momento il nostro ipy tanto amato tanto sudato del 19 e mezzo per cento stabile su ancor cose che se uno ci pensa polli è assolutamente sostenibile quindi molto bene ultimissimissimissima cosa altra cosa che mi avete chiesto in privato sono arrivati un paio di messaggi perché c'è stato un update del rapporto tra blockfi e i regulator io utilizzo blockfi quindi chiaramente seguo anche io tutte tutte le vicende a parte che vi consiglio io ho cercato proprio blockfi spazio regulator su google proprio come uno shitcoiler no scherzo e ho trovato questa pagina blockfi.com slash regulatory development dove vi tiene aggiornate su tutte le insomma i pipozzi che hanno dei regolatori e loro sono molto trasparenti blockfi non vogliono nascondersi dietro una foglia loro dicono funziona così 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 noi collaboriamo con i regulator e assolutamente vogliamo essere compliant il loro obiettivo è lavorare bene in maniera trasparente offrire un buon servizio e crescere come azienda quindi non scammare di sicuro e quindi ecco il discorso era col col con il new jersey con lo stato del new jersey che gli aveva fatto la prima causa no per il discorso delle serie hanno posticipato nuovamente la scadenza sapete che gli era stato intimato di dire di smettere di creare nuovi account in new jersey quella era la cosa che dovevano fare solo che blockfi sta dialogando con loro perché dice non è una security guardate venite parliamone e quindi hanno posticipato ancora il primo febbraio 2022 questa scadenza vi ricordo di nuovo che per noi utenti anche per gli utenti del new jersey in realtà non cambia nulla l'unica differenza se dovesse perdere la causa blockfi sarebbe che in new jersey non potrebbe più creare nuovi account di tipo earn ok quindi quella è l'unica cosa non chiude non c'è da temere si può stare tranquilli anzi blockfi io tra tutte le cefai che esistono la metto veramente al massimo livello di sicurezza trasparenza e tranquillità che mi che mi mi passa ecco mi trasmette sinceramente una trasparenza simile è rara da vedere ci sono giusto le altre top ledn crypto.com quelle lì che insomma sono top tier per quanto mi riguarda blockfi assolutamente ha delle migliori di tutte e poi vi scillerò anche su youtube il sapete che c'è sempre il bonus fino a 250 dollari per i nuovi account e ve lo scillerò su youtube non ce l'ho a portata di mano adesso possiamo aspettate innanzitutto ricambio finestra perché altrimenti faccio un casino incredibile e ripassiamo al grafico tac e adesso è il turno direi delle vostre domande perché io è questo che aspettavo più di tutto non l'ultima volta non siamo stati live ho fatto il mio video unidirezionale quindi è il momento e sapete anche di cos'è il momento di droppare il primo codice allora tac eccolo solita modalità quindi io vi piazzo qua il testo con dentro il codice quindi ve lo dovete spupazzare a mano aspetto qua che si vede meglio se no c'è il mio faccione davanti spupazzare a mano su prime xbt dove vi ho fatto vedere prima allora ciao luca come stai ma bene grazie sono tornato un attimino provato da roma ma diciamo che siamo tornati abbastanza sul pezzo considerando la supply attuale di circa un miliardo di psi di nexus protocol è possibile fare qualche calcolo sul valore intrinseco che sarà del token in seguito all'implementazione di bond per defy 2.0 inoltre ho letto un tweet di pylon protocol dove annuncia una futura collaborazione con nexus si ho letto anch'io che in sostanza pylon se non ho capito male vuole implementare una sorta di liquid staking ti spiego meglio visto che hai chiesto anche come funziona pylon allora pylon in sostanza è una dap che va a mimare quello che il comportamento di un launchpad no quindi tu investi in un nuovo progetto solo che lo fa alla terra style no cosa vuol dire vuol dire che noi andiamo a vincolare ust perché di fatto quello che andiamo a cedere non sono gli ust stessi ma la rendita potenziale che quegli ust potrebbero darci cioè ust è una stablecoin che genera valore perché ha il suo yield del 19,5% noi andiamo a metterla in staking vedete in questi pool di pylon che di solito ce n'è tre varianti in cui cambia il vesting ce n'è una vesting breve 6 mesi con le reward che vengono irdroppate a partire da dopo 3 mesi dall'inizio del deposito quello da 12 e da 18 con anche lì il claim che sale di 3 mesi in 3 mesi 3 6 9 l'apr chiaramente è più alto con un vesting più lungo ma è anche più alto il rischio perché noi per un tot tempo abbiamo vincolati i nostri ust e per un tot tempo non possiamo dampare i token queste sono queste sono le due variabili quindi qual è il nostro costo effettivo il costo effettivo è l'opportunity cost quindi io non vado a mettere in earn i miei ust e quindi perdo il 19,5% di apr ma in cambio ottengo i token l'apr che magari anche minore ma in un token quindi se io sono bullish su quel token lì in sostanza lo farmo a costo zero a costo il learn che manca quello che vuol fare se non ho letto male pylon insieme a nexus è un liquid staking cioè è pazzesca come idea perché in sostanza noi andiamo a mettere gli ust qua dentro e abbiamo un derivato utilizzabile come collaterale altrove cioè hai presente quello che accade con Solana quando vai a mettere in staking su Marinad e ottieni msol da sol? stessa cosa qui supponiamo diamo ust in un pool di pylon e otteniamo pust dico una sigla a caso con quei pust ci possiamo magari andare a fare cose a ottenere a metterli a collaterale da qualche parte per borroare qualcosa li possiamo scambiare in altri ust magari non a tasso 1 o 1 insomma ce ne si possono fare di cose e quindi quella è un po' l'idea sul valore intrinseco del token psi in realtà non so non conosco bene ammetto la sua tokenomics e poi insomma secondo me si fa un pelino fatica adesso visto che è un progetto ancora un poco nel senso il più lo deve ancora dare ok perché devono arrivare le th nexus che da ethereum ti permette di usare già cioè da chain ethereum ti permette già di usare ethereum a collaterale senza doverlo trasformare in bet poi ci sono le strategie altri volt quindi è ancora un progetto che deve un attimino come dire dare dare quello che deve dare poi da lì lo si potrà valutare con più concretezza però è sicuramente interessante infatti adesso è molto volatile come prezzo poi che differenza c'è tra ipy ed apr guarda la differenza è che l'apr non considera il compound quindi non reinveste i profitti e l'apy invece si se tu cerchi apy to apr o viceversa trovi la conversione poi esiste un gruppo telegram o un server discord aperto per le domande della community alla community assolutamente si c'è un server discord e guardate vi droppo il link tac eccolo qua da qui potete andare a vedere tutti i miei canali dal link che vi ho droppato in descrizione e uno dei quali è si chiamano discord allora ciao ma se compro bitcoin su binance posso usare celsius per ricevere gli interessi grazie assolutamente si basta che lo sposti su celsius ho preso un cipino da mia madre per buttarli in cobra e ora si è diventato un senza tetto quale coin mi consigli di comprare oltre a questa per essere ricco ovviamente ronda o no scherzo ovviamente fate i bravi non buttatevi a pesce su queste gamble fate i bravi su solar beam ah giusto hai ragione rom dao non è su trader joe ma è su solar beam ho fatto la cappellata io allora guardate solar beam perché di fatto rom dao è nel mondo polkadot è su moon river e quindi cioè nel mondo polkadot kusama è il primo fork di olympus dao sul mondo polkadot kusama e quindi è qua a rom eccolo e ora lo vedo infatti e che è la versione alfa diciamo che poi verrà convertita in rom nel momento del lancio del protocollo si scusate su solar beam che è il dex su moon river poi allora ritorno da voi tac con tutti questi cipini sarai arrivato al 5 per cento del portafoglio ma in realtà il cipino di wonderland dallo 0,5 era arrivato praticamente a più dell'uno era arrivato mi ricordo all'ultimo ribilanciamento poi l'ho ribilanciato di nuovo perché chiaramente se non ribilancio non faccio mai take profit e va a finire come al solito a più infinito e poi ho fatto una piccola riallocazione di uno 0,1 sullo 0,5 al mitico romdau vabbè lasciamo stare qua si parla veramente di gambling polle già comprata a 400 euro bene è su moon river ok domani airdrop dei desmos esatto 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 cipino uguale un k no cipino in realtà è uno 0, qualcosa l'unità di misura del cipino è assolutamente quella poi WWS finance hanno aggiunto il pool cro shib qualcuno ha detto in permanent loss qualcuno ha detto permanent loss probabilmente perché cro vabbè cro ormai più infinito shib non so come sta andando in verità ma insomma diciamo che non è proprio il pool sul quale farmerei perché insomma shiba sei esposto a shiba e i rischi sono abbastanza alti volevo andare a vedere l'apr per curiosità così giusto per condivisione con voi ok bene bene switch network turn farms pro shib 649 per cento ci vuole ben di più per convincermi a entrare piuttosto vado su cro wws scherziamo allora tac 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 eccoci il filtro che hai messo fa saltare l'audio quando parli piano allora devo abbassare un attimino la soglia volevo entrare su stader labs con qualche luna ma ho scoperto che per fare undelegate da un nodo bisogna aspettare 20 giorni sì 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 perché di fatto c'è il periodo di bonding si chiama con luna quando fai un stake e per evitare c'è una cosa dello staking ma per tutelare diciamo i nodi per evitare che uno faccia magari double spending poi fa subito un stake e quindi non viene beccato e non si becca lo slashing ma questi sono tecnicismi in sostanza sì purtroppo c'è da aspettare quello è uno dei contro del faran stake di luna Luke ti segnala un candelozzo di sand di oggi molto bene tanto per cambiare i metaversi pompano vediamo il nostro sand btc tac beh tutto tutto regolare è tutto regolare qua siamo assolutamente basso profilo non succede niente quanto ha pompato sta cosa quanto diamine ha pompa mille per cento beh non male non male non male perché direi che ci siamo assolutamente sostenibile tutto questo non è parabolico mi raccomando non fatevi del male anche su queste coin perché io vedo che quando pompano tutti iniziano a chiedere dove si compra dove si compra non è quando pompa che bisogna chiedersi dove si compra ma è quando ritraccia quando un attimino stornata quando è sottovalutata non quando i suoi massimi storici e ha fatto un più 50 per cento in un giorno mamma mia benissimo io ho le mie land me le tengo lì ma non le vendo manco morto le land su the sandbox le tengo all'infinito le tengo al minimo altri dieci anni io sono estremamente bullish sui metaversi anzi vi dirò di più di come dire vi mi espongo proprio cioè appena c'è un attimino di fase di storno dove non si fila più nessuno tutte ste robe trending faccio incetta di asset di real estate su metaversi allora 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 che lì sì che sarà un'occasione perché non sono sovrapprezzati come lo sono adesso allora ovr metaverso ovr ti dico la verità me lo sto approfondendo mi sta piacendo anche mi sta molto piacendo non so se farci un video oppure no ma mi sta molto piacendo marina da in permanent loss in realtà no perché è staking puro non è un pool di liquidità marina quindi se tu detieni m sol non hai in permanent loss hai soltanto il guadagno dello staking l'unica cosa che ti porta in permanent loss è se tu m sol lo vai a mettere in un pool con un altro asset che non è peggato a solana in quel caso sì come vedi wws sulla defi di crypto.com allora il dex bene mi piace è quello secondo me più sicuro il token non lo holderei personalmente perché lo vedo un po' un token dampabilissimo con tutte le ricompense che dà oggi c'è stata la vendita su binance delle terre di division land durata delle box 0,0001 millisecondi ma ragazzi è una fomo adesso cioè in fomo i metaversi io sono bullish sui metaversi e lo lo sarò credo anche per i prossimi anni ma sia bullish bisogna dire bene salva questa informazione tienila da parte io sono bullish aspetto quindi che ci sarà il prossimo storno perché prima o poi ci sarà un mercato non continua a salire in continuazione basta e una volta che storna io dico bene dov'è che ero bullish sui metaversi quanto costa sta land guarda nella fomo costava un etereo ma adesso costa 0,4 presa quest'altra ma guarda costa il 30% di quanto costava prima presa e poi si tiene si tiene si tiene però bisogna avere questa ecco pazienza numero 1 e 2 visione di lungo termine tranne quello di squid che cos'è che cos'è quello di squid oh mio dio allora vcro vbtc su autofarm vbs come lo vedi allora autofarm non è la mia passione su bifi non c'è e lo preferisco come compounder bifi però come può cioè vbs ci sta il pool ci sta perché cro btc sono comunque due coin valide ci sarà un po di impermanente loss perché cro in questo periodo sta veramente facendo numeri nonsense vai all'applicativo su cronos grazie dunque cro vbtc qui non c'è no si eccolo qua cro btc io te lo dico sinceramente preferisco bifi finance ad autofarm perché autofarm in passato ha fatto un paio di cappellate che hanno fatto capire che non sono proprio fanatici di sicurezza e non sono proprio al 100% precisi su alcune cose mio perso mia personale opinione poi flochi si ho visto ho visto la partnership di flochi con il napoli io non so veramente cosa dire cioè non ho niente contro il napoli è però flochino con tutte con tutte le cose cripto c'è chi fa partnership con cripto.com chi combina poi arriva loro con flochino ma non lo so adesso il noise gate mi taglia perché non ho non mi esce neanche la voce per dire per dire ciò allora ciao luca ti prego rispondimi che ne pensi di royal q e del suo bot automatico grazie ti dico la mia sincerissima opinione allora c'è dentro una componente di piramide non indifferente cioè il ref del ref del ref del ref del ref e quindi questo non mi piace molto inoltre è un bot poco trasparente perché non si capisce bene chi c'è dietro cosa fa cosa non fa e con i bot non è che c'è rischio zero di perdere i fondi perché se un bot ti vuole scammare e qua sembra che abbia molta voglia di farlo perché lo spinge molto con il marketing piramidale se ti vuole scammare in pratica lui organizza un trade dove lui mette immaginati un limit cell di una coin zero liquida a un prezzo dieci volte di quello attuale poi tutti i bot che esistono attivi no li coordina per far comprare quella shitcoin lui fa da controparte voi vi trovate una shitcoin che va all'undecimo di quello che avete e magari lo rifà n volte quindi io personalmente ci sono dei bot validi li conosciamo tutti c'è tricomace c'è bitsgap ce n'è tanti royal q per me non è non fa parte di quelli validi ma è una mia opinione magari mi sbaglio però mi sembra giusto condividere poi andiamo avanti ciao luca spiegheresti meglio il funzionamento di parrot su solana allora parrot su solana in sostanza fa due cose la prima è liquid staking quindi voi andate il wallet allora la prima è il liquid staking quindi di andare a trasformare i sol in prt sol ok vedete tac 7 per cento di apy sullo staking abbiamo noi diamo sol e otteniamo prt sol esattamente come marinad quindi che al posto di ame sol abbiamo prt sol la seconda cosa sono questi volt i volt sono si possono vedere in maniera simile ai volt di di dai no di maker dao dove si va a mintare a creare quindi un asset collateralizzandone un altro in particolare prendiamone come esempio non lo so uno questo qua usdc pi più earn cosa vuol dire se io vado a fare mind vedete io posso depositare degli usdc quelli che voglio e creare pi inoltre qui c'è anche più earn quindi in realtà con questo volt vado anche ottenere una rendita su usdc però il senso è che minto pi depositando usdc con questi altri vado a fare la stessa cosa con altro quindi io vado a depositare usdc e minto pbtc ok quindi qua attenzione c'è liquidazione perché se prima andavo a mintare una stable con una stable non c'è liquidazione se vado a mintare bitcoin pbtc che è appeggato a bitcoin c'è liquidazione lo stesso vedete posso fare rem btc pbtc qua in questo caso non so non c'è liquidazione infatti perché sono comunque asset stabili comunque queste sono le due cose che fa parroth i p asset quelli di parroth sono abbastanza diffusi su solana in particolare su sanni e su saver quindi poi si può fare si può concatenare ad esempio marinad con parroth con sanni per andare a ottenere una rendita interessante perché se non ricordo male qua su parroth c'è anche c'è anche c'è anche si poteva collaterializzare m sol per andare a creare forse questo eccolo qua vedete depositare m sol per creare p sol quindi io vado a mettere in staking i sola qui inizia la il lego il defa il lego solana staking su marinad ottengo m sol e i py 7% circa m sol lo prendo e vado a mintare p sol qua dentro quindi a me sol continua a crescere no nel frattempo p sol me lo prendo senza liquidazione tra l'altro con un long to value anche molto alto prendo p sol lo vado a mettere in sanni o saber quello che è nel pool p sol prt sol c'è mi pare ce ne sono vari di pulco nei py molto golosi e quindi prendo le py da lì le py da marinad e li metto insieme e godo tantissimo quindi ci sono queste combinazioni carine che parroth aiuta a fare però potrebbe non essere per tu allora cardano dell'istato dai toro negli stati uniti vero per quale ragione per quale ragione allora ehi luke io come te sono un fan di luna e del mondo cosmos volevo chiederti non sei preoccupato sulla centralizzazione hanno solo 100 validatori la maggior parte delle chain di cosmos sdk è vero è vero è così e alcune luna mi pare ne abbia 100 qualcuno in più se non erro anche atom ne ha tipo 160 comunque non sono molti è vero è un limite purtroppo di molte chain costruite col cosmos sdk come dici tu poi c'è un sistema è vero che incentiva anche i delegatori a non centralizzare troppo però di fatto non si possono definire purtroppo le chain più decentralizzate al mondo su quello sono assolutamente d'accordo e ti dico nel proof of stake se tu ti guardi intorno nel panorama proof of stake a parte rare occasioni no c'è ad esempio solana ha mille validatori che uno dice solana è centralizzata in realtà è molto meno centralizzata di altre il mondo cosmos si aggira in quell'ordine di grandezza lì poi ce ne sono altre che hanno soluzioni particolari magari riescono ad avere più validatori vuoi per lo sharding come erond vuoi per altri altri metodi però ecco il mondo cosmos per adesso è così se poi cambierà non lo so ma per il momento di certo non spicca è vero non si può dire il contrario non spicca per decentralizzazione calcolando l'impermanent loss avrei guadagnato di più semplicemente holdandoci a reocchio a farmare su vvs attenzione a fare questi paragoni perché sono paragoni col senno di poia tu non potevi sapere prima che cro avrebbe fatto per 10 cioè è ovvio che se l'avessimo saputo se io l'avessi saputo non avrei dampato tutte le reward della carta potete insultarmi di nuovo potete trollarmi perché ho dampato i cro del cashback se l'avessi saputo non li avrei dampati tu allo stesso modo se l'avessi saputo non avresti farmato però non lamentarti perché comunque secondo me un buon profitto ce l'hai poi ciao luca quando ogni quanto consigli di fare il reclaim su terra station di cosa dipende di cosa come hai fatto per passare da avalanche a moon river per il cipino su a rome ho usato any swap come bridge any swap è il mio bridge preferito sinceramente via poi poi aspettate leva il noise gate che taglia troppo e lo devo abbassare un po forse devo migliorare adesso poi mi riascolto bene e miglioro miglioro il post processing allora vediamo qualche ultima domanda prima dei graficozi vediamo cosa abbiamo quando parlerai un po' del metaverse e quali piattaforme usare ho fatto un video dedicato in realtà un po' di tempo fa se lo cerchi se cerchi metaversi lo dovresti trovare con cro sono vicino al 10 per beato te beato te luca per astroport i luna devono essere liberi o possono essere messi altrove devono essere liberi attenzione ai liberi quindi se avete luna in staking fate un stake perché poi ci sono i 21 giorni e poi vi perdete il lock drop di astroport mi raccomando luca come si fa a capire quando le cifre da investire sono troppo piccole ed è inutile diversificare guarda la mia sincera opinione è che diversificare troppo è sempre inutile cioè non ha senso dire io guarda il mio portafoglio a volte vedo qualcuno che mi manda mi dice cosa ne pensi del mio portafoglio c'è una torta divisa in 78 fette microscopiche che ho lo 0.72% qua lo 0.11% là e diventa un bordello di shitcoin e basta cioè non ci sta così secondo me ci sta a diversificare ma con cognizione cioè una parte diciamo preponderante una parte a maggior rischio magari diversificata tra 2 tra 2 5 coin e la parte gambling se proprio la si vuole implementare però fare uno spettro di rischio basso rischio tra virgolette perché sono sempre cripto basso rischio medio rischio rischio folle e poi scegliere qualcosa lì ma non diversificare troppo perché tanto le cripto poi sono tutte abbastanza correlate tra loro e va a finire che io penso di aver diversificato poi mi si muovono tutte all'unisono e ci sono dei giorni che non capisco più perché perdo perché non perdo non ci sta non ci sta si perde veramente il controllo di del portafoglio poi 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 vediamo puoi analizzare cro quanto pensi che potrà mai raggiungere ragazzi è una bella domanda l'unica cosa che al momento con fermezza ribadisco è che io personalmente non entrerei io sono bullish ai massimi su tutto l'ecosistema crypto.com su cronos sull'azienda stessa sui loro prodotti tutto quello che fanno diventa oro abbiamo capito questo bisogna essere bullish su crypto.com fanno un marketing folle il problema è che questa cosa è iper estesa quindi benvenga a accumulare chrome ma non facendo dei buy localizzati ora cioè o si fa una strategia di lungo termine di nuovo ragionando sul lungo termine ma altrimenti entrare immaginatevi di entrare ora dicendo io vado sul lungo termine e poi magari ti fa un magari va ancora su sei contento poi inizia a ritracciare ritraccia 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 poi torna su poi ritraccia ancora per anni ok in questi anni tu cosa avresti potuto fare avresti potuto acquistare un po alla volta ta 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 andando a mediare il tuo prezzo di carico e ti saresti trovato con più cro e con un prezzo di carico più basso e quindi tendenzialmente sono poche le volte in cui l'acquisto singolo vince su un piano d'accumulo soprattutto se si parla di un orizzonte lungo e quelle volte si chiama culo quindi tu vuoi affidarti al culo o alla strategia questa è un po la domanda da farsi quindi comprare i massimi no anche se c'è fomo lo capisco che c'è fomo perché uno dice miseria arriva un dollaro poi chissà quanto arriva arriva come bnb è fomo questa va presa e va estirpata dal nostro corpo deve uscire dal corpo la fomo altrimenti sono danni sono solo danni vorrei fare upgrade alla carta e si di cripto puntocom secondo te come analizzare il trade off per avere fatti game col pump e il fatto di aggiungere altri money est i massimi ragazzi li deve entrare in gioco un discorso di far due calcoli cioè quanto la uso questa carta vale davvero la pena fare la ice cioè quanto spendi tu di fatto per avere una differenza significativa tra il 35 per cento di cashback che ti dà ne vale la pena devi ragionare più su quello perché se ne vale la pena sul lungo termine ti ripaga cioè lo sai l'abbiamo visto che qua non si parla di speculazione dall'oggi al domani si parla di lungo termine certo è che ti forza un po fare un entry adesso quindi magari anche qui potresti dire per adesso faccio il problema è che se fai la stake poi ti devi rifare subito lo stake che hai il vincolo per 180 giorni quindi non saprei devi ragionare tu su sui tuoi numeri dipende da quello dipende esclusivamente da quello avalanche cosa ne pensi quanto potrebbe raggiungere stessa cosa sono bullish su avalanche però è esteso da fare schifo è esteso da fare schifo adesso sta anche un po ritracciando in verità quindi potrebbe non essere malaccio da un punto di vista anche speculazione andiamolo a vedere in particolare non sarebbe male questa zona cioè tra i 15.000 e i 18.000 questa zona qua vediamo anche sul daily ma scommetto che si ripresenta tale quale c'è anche un bel cluster sul daily si confermo come quest'area estesa anche fino a 18.000 potrebbe essere un primo supporto da tenere in considerazione quindi da vedere come ci comportiamo all'approccio qua se lo perdiamo chiaramente la struttura si perde questo diventa una zona di top ma se non lo perdiamo e ci dà un attimino di sostegno molto bene molto bene questo è un po' il da farsi mentre lato investimento valgono i soliti ragionamenti sul lungo termine non sul grafico o la speculazione poi in quale blockchain conviene creare una dap ad oggi dipende dipende con cosa ti vuoi interfacciare con che tipo di utenza vuoi avere a che fare con tante cose perché non c'è da guardare solo le fee cioè le fee sono solo una piccola cosa ovvio che se vuoi fare una shitcoin conviene la bsc perché tutti gli shitcoiner sono lì le fee sono basse e fai in fretta a raccattarne altri a raccattare capitale ma se magari vuoi interfacciarti con curve con altre defa importanti con un'ottica di lungo termine allora magari conviene puntare altrove e magari oddio si può usare la bsc come banco prova per vedere per fare un po di stress test e poi eventualmente deployare anche altrove ragazzi 59 minuti momento grafici e momento secondo codice io ve ne ho promessi tre e tre ve ne darò nel frattempo io metto questo era il primo è quindi fatti bravi adesso vi incollo il secondo allora opp opp eccolo allora 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 bitcoin partiamo da lui l'abbiamo già intravisto all'inizio abbiamo intravisto che la situazione è di debolezza per il momento debolezza perché continuiamo a fare lower low sul breve attenzione non stiamo parlando di macro ma di breve lower low senza particolare reazione da parte della domanda quindi finché non arriva una botta di domanda che ad esempio guardate se andiamo a zoomare ci avviciniamo nel frattempo provate a prendere il codice se zoomiamo ancora più sul breve notiamo questo piccolo cluster allora questa questo rettangolone lo levo che fa casino questo piccolo cluster qua tra i 60.000 e 61.000 di fatto al momento ha una resistenza ed è la principale resistenza che ci va come dire a mostrare la debolezza della domanda cosa vuol dire vuol dire che se la domanda riesce a spingere immaginatevi qua sopra facciamo un piccolo costrutto di bottom che non è male non è male in una situazione così perché ci farebbe capire che non siamo in caduta libera perché adesso sembra che la forza di gravità regni sovrana che scendiamo scendiamo così non c'è domanda cioè manca quel piglio no a pompare un attimino e quindi invece quel piglio potrebbe essere dimostrato dal reclaim di questo livello 60 61 una volta che lo reclaimiamo si potrebbe andare a giocare proprio su di lui per costruire un long speculativo per il momento non c'è long speculativo ma c'è long diciamo più di ampie vedute ovvero la costruzione di posizione come dicevamo in tutta quest'area con invalidazione qua sotto perché questo è come dire zoomare no abbiamo guardato da vicino adesso abbiamo visto l'approccio molto speculativo e zoomiamo ci allontaniamo un po invece andiamo a concentrarci di più su quello che è il macro su quello che è il quadro generale no la struttura generale e questa ci dice che abbiamo degli higher low quindi abbiamo ancora un trend chiaramente rialzista abbiamo un attimino di difficoltà qua perché l'offerta bastone martella ma comunque adesso stiamo stornando senza dampare si potremmo aver fatto un top temporaneo che però ripeto non è ancora bearish non è presto per essere bearish essere bearish solo se facciamo di fatto un lower low cioè se scendiamo al punto tale da perdere anche questo supporto allora lì caspita è veramente un'offerta tale da assorbire tutto quest'ultimo pump ed è notevole e lì di fatto uno inizia a dire caspita anche la struttura macro inizia a essere compromessa e allora lì c'è da ricalibrare un po tutto anche in base all'ai successivo e a tante altre cose che adesso è presto per valutare se al contrario noi andiamo a stornare scendiamo ma poi facciamo di nuovo un higher low la situazione potrebbe essere o accumulativa se andiamo a fare una cosa del genere oppure addirittura un una prosecuzione rialzista naturale se poi andiamo ad attaccare subito i massimi e a fare un altro higher high cioè faremo higher low higher high quindi conserveremo banalmente il trend senza neanche metterci in pausa accumulativa questa è un po la situazione quindi non ha senso affrettarsi potremmo sì scendere ulteriormente potremmo anche andare non lo so a 50 45 mila senza comunque perdere le speranze quindi non è che bisogna solo pompare in continuazione altrimenti le cose vanno male anche se storniamo ogni tanto non fa male a nessuno anzi c'è opportunità di costruire una posizione più assennata che poi tutti scappano quando si ritraccia e arrivano quando rompiamo i 70k no non si fa così se siamo davvero bullish su bitcoin bisogna costruire le posizioni quando il mercato è un attimino in difetto in debolezza questo potrebbe essere un momento come abbiamo inquadrato ora l'importante avere una strategia ben chiara andiamo a vedere adesso ethereum e le altre allora ethereum è bella carica ethereum è perché si è ripresa questo 0072 che era un po l'area centrale di questo range in cui si muove adesso guardate il settimanale con tutti i livelli che derivano dal settimanale questi tac tac e lo abbiamo ripreso dobbiamo andare a vedere a comportarci un po bene no con questo top locale ma che dire la situazione è sempre quella di range di lateralità dopo un impulso rialzista veramente forte quindi sembra un'accumulazione dico sembra perché la conferma definitiva la avremo soltanto se andiamo a rompere di fatto a rialzo quindi in queste situazioni o si accumula nella zona bassa del range su ipotesi di accumulazione quindi con stop loss fuori da qua come abbiamo evidenziato da sempre perdita di quest'area top molto forte perché se andiamo a fare così questo diventa veramente un top molto brutto ok mentre se accumuliamo e poi partiamo cioè diventa un launch pad quello veramente un trampolino folle e io mi auguro che vada così perché insomma su ethereum sono abbastanza bullish pure lì poi andiamo a vedere anche luna che mi avete chiesto allora anche luna è un attimino in in pausa non si muove è adirezionale all'interno di questo range vedete che si muove forse anche più in triangolazione che in lateralità vediamo sul daily cosa dice il daily abbastanza anonimo vedete abbiamo una cosa di questo tipo sembra accumulativa teniamola d'occhio però i volumi anche loro sono abbastanza in compressione adirezionale quindi anche su luna vedete essendo comunque uno scenario di possibile accumulazione si potrebbe andare a puntare alla zona low alla zona range low così se andiamo ad attaccarlo e poi rimbalziamo abbiamo costruito un po di posizione nella zona più a vantaggio nostro se perdiamo invece tutta quest'area purtroppo insomma cade la struttura e passa in una fase di correzione e ribasso perché dopo una lateralità del genere perdere a ribasso è tutto fuorché un buon segno poi cos'altro possiamo controllare la total market cap market cup o meglio coin market cup come messa è messa che anche lei vedete è un attimino in bilico abbiamo perso il nostro trend quindi siamo un attimino in abbiamo fatto un passo indietro però abbiamo ancora il nostro supporto principale vedete qual è il time high vecchio non l'abbiamo perso a 2.4 e ci funge al momento da supporto quindi fin tanto che ciò vale siamo comunque in una situazione tutto sommato positiva chiaro è che vorremmo vedere degli degli higher high però anche consolidare un attimo ogni tanto male non fa si è creata questa questa fase diciamo ci troviamo in questo range il top è 3 trillion per ora e adesso rimbalziamo tra i due quattro i tre e nel frattempo si trattiamola come tale cioè come una fase adirezionale l'abbiamo visto su bitcoin che ci sta a costruire ad esempio la posizione l'abbiamo visto su ethereum che è lì che palleggia nel range luna ma tante coin le uniche che sono un attimino in contro trend sono i metaversi principali mana sand eccetera e cro che cro non lo sa che stiamo lateralizzando lei va continua ad andare non sa niente molto bello così mentre le alt bitcoin dominance in anche qua continua apparentemente la fase ribassista abbiamo fatto un lower low di nuovo quindi le altcoin ma anche qua ripeto a merito di quelle poche quindi è un indicatore da prendere un attimo con le pinze adesso perché la liquidità al coin è concentrata su poche mentre le altre sono abbastanza anonime amici ultimo codice ultimo codice è il momento dell'ultimo codice allora e lo giro immediatamente eccolo me ne rimangono altri quattro è dopo questo quindi non pensiate non pensate che sia finita qui non pensate che sia finita qui cosa ne pensi del progetto elongate mi daresti un parere grazie te lo dico subito guarda il progetto è una giga mega ultra super turbo shit coin quindi il mio parere è totalmente negativo scherzi a parte attenzione con quelle quelle shit coin lì perché sapete come come la ecco sono non hanno valore intrinseco sono date solamente da da fomo viralità eccetera quando finisce finisce anche il 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 loro trend ma è un belp esatto è un bel progetto come si suol dire il nostro belp prima o poi lo lanceremo ragazzi cioè ci tocca ci tocca lanciarlo partito in mezzo secondo era siete veloci tra l'altro non potete neanche fare copia incolla da lì quindi siete veramente veramente bravi maia exchange è da cipino di più maiar dici e maiar tanta roba e ragazzi tanta roba con un apr che è quello attuale tanta roba ci sta il il cipino ci sta la farmata high risk però non durerà sappiatelo perché l'erogazione di token come ho spiegato nel video di ieri decrescerà nel tempo e immagino che poi anche il token max subirà il il dump no perché il pool che rende è il pool max e e gold e cosa vuol dire questo vuol dire che per partecipare uno deve comprare max e questo fa salire il prezzo ok poi uno farma magari non da un pa subito perché fa un po di compound eccetera e quindi si innesca un feedback positivo quando questo feedback termina ovvero la gente inizia a dampare max toglie la liquidità non tiene max la cambia in e gold per mandarla su binance quindi vende max si innesca il ciclo opposto e quindi il token dampa è quello che è accaduto con vvs dovete tenere sempre le antenne alzate la guardia alta questo perché quando ci sono degli ip y così alti non durano non è che ti scama la piattaforma perché non è uno scam è un exchange assolutamente legittimo però non durerà cioè max damperà e gli ip y caleranno tutto lì questo è in breve quello quello che accadrà non volevo fare la gufata ma termino oggi la live così io vi faccio un saluto a questo punto noi ci rivediamo venerdì perché i calcetti per un po adesso stiamo stiamo tranquilli anche perché non sono minimamente allenato e dopo un calcetto sono in mille pezzi io vado sì vado in palestra tre volte a settimana corro e tutto quanto ma quando si tratta di fare un calcetto sono sempre disintegrato e quindi io vi faccio un saluto noi ci rivediamo venerdì fate i bravi non fate i pin nei progetti ad alto rischio e basta il cipino ogni tanto va va sganciato attacca le scarpe al chiotto esatto forse mi converrebbe forse mi converrebbe però no non si molla e benissimo ragazzi di nuovo alla prossima buona serata sempre sul pezzissimo